I furbetti sono stati inchiodati e proprio mentre stavano scaricando i loro rifiuti sono stati i carabinieri forestali di Terranova Bracciolinea di individuare numerose persone che avevano abbandonato rifiuti in aree rurali grazie all'installazione di telecamere e previa autorizzazione della Procura della Repubblica. Qui il fenomeno è particolarmente importante. In questa prima fase sono state poste sotto osservazione aree extraurbane vicine a dei cassonetti dove i cittadini anziché recarsi alle isole ecologiche avevano abbandonato rifiuti ingombranti. Dopo aver esaminato i primi filmati in cui si potevano riconoscere con facilità persone e numeri di targa, i militari hanno già contestato numerose sanzioni. Si va dai 50 ai 600 euro ma si corre il rischio anche del deferimento all'autorità giudiziaria. Altri firmati saranno visionati nei prossimi giorni.